a volte la ricchezza non è quella sicurezza che tu hai trovato ancora una volta sotto l'aspetto materiale ma la ricchezza è quella cosa che ti fa divertire quella cosa che così che va al di là veramente di qualsiasi sicurezza e questo ci penso spesso e tutte le cose che facciamo devi veramente aver piacere deve veramente avere passione e oggi comunque dopo diversi anni ho anche piacere e ci sto mettendo anche tanta passione in quello che sto facendo in questo nuovo ruolo